Da Napoli a Bruxelles, dall'India al Brasile, diventa itinerante la seconda edizione del Pianeta Mare Film Festival, 20 film in concorso selezionati tra 120 opere provenienti da 31 diverse nazioni. Il Pianeta Mare Film Festival quest'anno torna dal 4 all'8 ottobre a Napoli, nella città in cui è nata la moderna biologia marina. I dati e le novità della seconda edizione del primo festival italiano che racconta attraverso il cinema la relazione tra gli esseri umani e il mare sono stati illustrati in una conferenza stampa. Ai nostri microfoni il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente del festival Ferdinando Poero. Un'iniziativa molto significativa che noi come amministrazione stiamo sostenendo proprio perché fa parte anche di questo percorso culturale di riappropriazione di uno dei beni più importanti e più identitari della città che è proprio questo straordinario rapporto col mare. Gli studenti delle università napoletane e non solo produrranno dei film con i loro smartphone perché ormai si possono fare film con questi macchinari. Il festival organizzato dall'Associazione Culturale Pianeta Mare Darwin Dorn, fondata dal giornalista Max Mizao Perchzel, vedrà svolgersi proiezioni suddivise tra il Cinema Academy Astra dell'Università di Napoli Federico II, il Museo Darwin Dorn in Villa Comunale a Napoli, la Sala Saffo alla città della Scienza a Bagnoli. Sentiamo proprio il presidente Perchzel. Questa partecipazione attiva da tutta Italia, abbiamo anche in aggioria una ragazza da Parigi, un ragazzo dal Marocco, ci fa ben sperare per il futuro.